benvenuti in un nuovo video di quadricottero news pochi giorni fa dji ha rilasciato un nuovo aggiornamento per la dji fly portandola alla versione 1.10.4 ufficialmente questa nuova versione presenta delle novità inerenti alla sintesi vocale quindi con un suono più naturale per quanto riguarda i messaggi vocali ed ha risolto e ottimizzato la qualità complessiva dell'app ma c'è anche una novità che non è stata dichiarata e che impatta tantissimo sul mini 3 pro e vedremo anche se impatta su altri droni come ad esempio il mini 2 dal punto di vista operativo è una novità indubbiamente negativa tuttavia può essere considerata anche positiva perché preannuncia una novità molto attesa ma prima di spiegarvi tutto quanto vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto per darmi un supporto grazie allora vediamo qual è questa novità nascosta che dji ha introdotto con la nuova dji fly 1.10.4 proviamola con il mini 3 pro eccoci qua collegati andiamo a vedere la versione della dji fly se effettivamente è quella che ho aggiornato in effetti è la 1.10.4 andiamo a vedere nel menu impostazioni voce sicurezza scorriamo verso il basso e avete notato l'altitudine e adesso è fissata a 120 metri massimo si può spostare da un minimo di 20 metri fino a massimo 120 metri non c'è più la possibilità di arrivare fino a 500 metri e questa è la novità che dji ha introdotto con questa nuova versione di app e che non ha dichiarato ma la stessa cosa accade soltanto sul mini 3 pro oppure accade anche su altri droni come ad esempio sul mini 2 verifichiamolo subito sul mini 2 radio comando e app collegati andiamo a vedere la versione se effettivamente è rimasta quella sì perché è sempre lo stesso smartphone che sta utilizzando quindi 10 1.10.4 sul dji mini 2 andiamo anche qua nel menu sicurezza e vediamo che non c'è la limitazione a 120 metri lo slider può andare fino a 500 metri come al solito e questa è l'app 1.10.4 quindi è l'app aggiornata che ha imposto il blocco dei 120 metri soltanto sul mini 3 e pro ma come mai questa limitazione di 120 metri rispetto al punto di decollo il motivo è quello che dji ha anticipato quanto vi avevo spiegato vi avevo messo sull'avviso in questo video di quattro mesi fa quando ho parlato del dji mini 2 se che avendo l'emme tom dichiarato ma non la marcatura di classe c 0 potrà volare come i c 0 ma con un grande vantaggio rispetto ai c 0 perché i droni con marcatura c 0 dovranno rispettare il limite dei 120 metri rispetto al punto di decollo lo dice il regolamento 945 su requisiti per la marcatura c 0 gli altri droni che non sono c 0 ad esempio i droni c 1 potranno essere limitati o rispetto al punto di decollo oppure rispetto alla superficie al punto più vicino della superficie terrestre esattamente come dice il regolamento 947 è una limitazione del regolamento 945 sulla marcatura di classe c 0 non è del regolamento 947 che invece permette di mantenere la distanza rispetto al punto più vicino della superficie e possiamo vedere in questo disegno le differenze il drone c 0 dovendo mantenere 120 metri rispetto al punto di decollo arrivati a 120 metri si deve fermare si ferma non potrà andare oltre il drone mini 2 se che ha l'emme tom dichiarato ma non ha la marcatura c 0 non ha questo blocco e quindi può superare i 120 metri rispetto al punto di decollo mantenendosi a 120 metri massimo dal punto più vicino della superficie come possiamo vedere da questo disegno in questo pendio il drone non c 0 può andare oltre tra l'altro la marcatura c 0 pone un grande impedimento in presenza di un ostacolo artificiale perché il regolamento 947 permette di superare l'altezza massima dell'ostacolo artificiale più 15 metri e se abbiamo ottenuto il permesso del proprietario dell'ostacolo nell'esempio sulla destra della pala eolica con un drone c 0 non possiamo superare di 15 metri l'altezza della pala eolica mentre con un drone non c 0 possiamo superarlo fino a 15 metri e quindi è un'altra grande limitazione del drone c 0 ma la domanda è ma come mai questa limitazione è stata fatta sul mini 3 e mini 3 pro che non hanno la marcatura di classe c 0 esattamente come il mini 2 e il mini 2 non è stato toccato da questo aggiornamento up secondo me si tratta di un'anticipazione sfuggita dji sulla marcatura c 0 del mini 3 pro infatti ho notato che il 9 di giugno e sui registri fcc è apparsa una nuova versione del mini 3 pro ho analizzato i documenti e sono giunto alla conclusione che la modifica riguarda la radio l'sdr però potrebbe esserci anche il fatto che dji ha chiesto la marcatura di classe c 0 per le nuove versioni del mini 3 pro e probabilmente anche per la marcatura retroattiva anche se però il numero di mini 3 pro in circolazione da retromarcare è veramente elevatissimo e dubito che dji riesca a inviare tutte le etichette come ha fatto per il mavic 3 ma staremo a vedere nel frattempo dopo tutte le lamentele ricevute dji ha ritirato la 1.10.4 rimettendo online la versione 1.10.1 che non ha questa limitazione quindi chi ha installato la 1.10.4 può scaricare sul sito dji la 1.10.1 e togliere questa limitazione che riguarda il mini 3 pro se andiamo sulla pagina download center del sito dji vedremo la dicitura v 1.10.4 in realtà se andiamo a cliccare sopra scaricheremo la versione precedente la 1.10.1 piuttosto il problema è per chi ha aggiornato il dji rc e il dji rc pro che non riesce non riuscirà più a fare un downgrade perché dji su questi due radiocomandi non permette il downgrade vedremo se abiliterà questo opzione in conclusione dji con la nuova app 1.10.4 ha inserito la modifica nascosta del blocco a 120 metri rispetto al punto di decollo soltanto per il drone mini 3 pro per gli altri droni non ha nessun impatto la versione 1.10.4 probabilmente è una modifica che ha anticipato in modo non voluto perché ha deciso di ritirare questa versione e di rimettere online la 1.10.1 in attesa dalla 1.10.5 probabilmente si tratta di un'anticipazione sul fatto che il mini 3 pro riceverà la marcatura c0 perché sul sito della fcc è apparsa una nuova versione del mini 3 pro non sappiamo se ci sarà anche la possibilità della barcatura retroattiva perché il numero di etichette da inviare agli utenti è veramente enorme non so se dji riuscirà a gestire questo volume di richieste per la marcatura per l'eventuale marcatura retroattiva preciso che la marcatura c0 sul mini 3 pro è una mia presunzione non c'è niente di certo anche se questa cosa questo fatto può essere visto come un indizio a favore della marcatura c0 ricordiamoci che i droni c0 avranno questa limitazione rispetto al punto di decollo quindi non solo i droni ghi tutti i droni con marcatura c0 per effetto del regolamento 945 avranno la limitazione rispetto al punto di decollo bene per ora è tutto vi ringrazio per l'attenzione e fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto per darmi un supporto grazie a tutti ci vediamo con il prossimo video su quadricottero news buona continuazione